Io con mio amico, quando ho visto il polizia locale è andato di là, io ho arrivato di là, è tornato sotto zero, è arrivato e è fermato la macchina. Io di là, è arrivato a me e picca a me, quando arriva a me, è picca, pom pom pom, non parla con me, non mi ha dato da me i documenti, io senza documenti, mi ha dato, e lui è fermato qua con la macchina, lui è arrivato qua, è aperto la porta e l'ha sentito qua, l'altro è fermato qua, e guarda, vieni qua, lì, si è aperto qua con me, l'ha fatto qua. Di là, io sono di là, è arrivato e picca a me, picca a me con le, anche questa, anche questa, pom pom pom, e dopo è arrivato la siena ora sopra, è arrivato di là, mi ha fatto chiedere cosa c'è qua, mi ha dato, vai 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 via, vai via, è andata, dopo è picca a me, picca a me, picca a me, picca a me, dopo è tirato la pistola, tirato la pistola e ha fatto così, anche guarda, c'è qua con le, rossi qua, guarda, dopo ho lasciato un dato di là, un dato di qua, guarda, vieni qua, c'è il colliglio, qua, è fatto con l'acqua, per la testa, dai, giù, 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 pagare la testa qua, anche la maletta, anche le foto da, a Carabinieri. a casa, c'è un amico della polizia locale, come si chiama Marco, lui è andato al bagno, io ho aperto la finestrina e scappato, è andato lì là, è arrivato lì là, è arrivato a Claudia, mi ha dato anche le scarpe, il senso di scarpe, anche le malette, e mi ha detto io Claudia chiamo Carabinieri, è chiamato Carabinieri, è arrivato Carabinieri qua, è andato il segno di tutto, le Carabinieri è andato al cuistore al sabato, dopo è andato al calcieri, il sabato domenica, il lunedì, il mercredì, il giovedì, il venerdì, è arrivato, e lui mi ha dato tutto il doctor, lui è scappato e mi ha dato, non è salvato, è andato, è andato, con la pistola qua, tirato lì ed è picchiato qua vicino. Anche la signora sopra ha visto tutto. Anche c'è quattro marocchini e ha visto tutto. Anche lui che è arrivato adesso, anche una signora sopra. Anche lì l'indiano sopra, un marocchino sopra. Ma la prima volta ho fatto con un ragazzo marocchino, guarda come, sopra. Ho fatto anche il pom pom pom. Ho fatto la denuncia, l'altro è andato a Carabinieri, e scusami, è finito. Ti dico una cosa, io non voglio. Scusa, scusa. Ma perché? Quando arriva fermato a me, dammi i documenti. Io non c'è, è andato al caserno. Dopo vado qui sola per le cose, non è arrivato, non è parlato come dammi i documenti. Quando arrivo, pom pom pom. Non chiamano. E dopo quando ho piccato a me, io guardo. Lui, lui non c'è niente con l'occhio o cosa. Ho fatto una malattia 25 giorni. E guardami io, mezzo. E io andato del comune, dopo è scappato, è arrivato qua per aiuto. Chiamano Carabinieri, aiuto, guarda cosa faccio con me. E ho chiamato Claudio Carabinieri da Martingua, è arrivato, spiegato tutto, è andato anche ancora. Domani, sabato, è andato alle 8, a questura. Ho fatto le cose. Dopo è andato al carcere. Alle venerdì è uscito. È andato, è andato al carcere, non so che.